Ti vedo sfinito, Adolf. No, anzi, sono contento che tu sia tornato. Così posso ucciderti con le mie mani. Posso finalmente assolvere il compito per cui mi hanno creato. Ucciderti. Ora sono ancora più potente. Il sacrificio del tuo amico non è servito a niente. Prova! No! Non sta mentendo. È potentissimo. Non posso batterlo. Non mi dire che è già finita. Che delusione, mi aspettavo un finale più acceso. Non arrenderti, Adolf. Gesù, sei tu. Puoi vincere, Adolf. Devi credere in te. Ormai è invincibile. Ed è tutta colpa mia. Ho reso vano il tuo sacrificio. Non ti preoccupare per me, sto da Dio. Ora concentrati e libera tutta la tua potenza. Non so se posso riuscirci. Ora parla da solo. È diventato scemo. Beh, non è un problema mio. Sarò qui con te. Ma devi dare il massimo. Va bene. Muori! Cosa? Adesso, Adolf! Beh, ce l'ho fatta. Grazie, Gesù. Addio, Adolf. Addio. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco.